Rapina a mano armata ai danni di un rivenditore di tabacchi e valori bollati è accaduto ieri pomeriggio in località Castelpagano di Monte Corvino, Pugliano. A mettere a segno il furto sono stati 3 milioni del posto che con una pistola finta si sono introdotti all'interno dell'esercizio commerciale verso le 17. Non si conosce al momento il valore del bottino, ma sembra siano state portate via poche centinaia di euro. Non contenti i ragazzi, prima di far perdere le proprie tracce, hanno derubato di 50 euro anche il cliente che in quel momento si trovava nell'attività. La fuga della gang è durata poche ore. Le indagini compiute dagli uomini dell'arma infatti hanno portato all'arresto dei ladri in un terreno distante poche centinaia di metri dal luogo della rapina. I ragazzi che hanno messo a segno il colpo hanno un'età che va dai 14 ai 16 anni.